ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di rockpolitik spesso non ci soffermiamo a guardare a leggere a studiare la politica estera la geopolitica da quando è caduto trump il mondo è cambiato in un batter d'occhio questo lo notiamo soprattutto anche analizzando la politica italiana nelle ultime settimane abbiamo visto come la lega e salvini abbia mostrato segni difficoltà dopo così tanti anni in cui è sempre stato il partito più forte d'italia questo perché perché siamo passati a parlare con l'opinione pubblica paralizzata su tematiche come muri migranti tematiche sull'immigrazione sui sbarchi clandestini adesso siamo paralizzati con tematiche come per esempio l'idl zan come l'ambiente o i diritti civili questo punto dimostra quanto la politica americana soprattutto la politica mondiale ci influenzi tanto anche nella nella nostra quotidianità abbiamo visto come nell'ultima settimana e caso fedez abbia fatto parlare tutti i salotti televisivi e tutti i giornali questo perché perché ormai nel nostro mondo non abbiamo più una specie di comunismo e fascismo sono caduti in italia dopo compromesso storico e nel mondo dopo la caduta del muro di berlino ormai abbiamo due nuovi schieramenti che sono il globalismo e il sovranismo con il globalismo abbiamo appunto i massimi esponenti come possono essere in italia il partito democratico comunque i democratici negli stati uniti e il sovranismo come abbiamo visto negli ultimi anni abbiamo la russia come uno dei massimi esponenti in italia abbiamo avuto la lega e la meloni ma questo questo cosa ci ci vuol far capire è che ci vuol far capire che ormai da qui ai prossimi sicuramente quattro anni i dibattiti saranno spostati sui diritti civili e questo lo notiamo soprattutto anche a livello di social a livello di quotidianità questo perché facebook che era stato sempre il diciamo il social principale il social protagonista della nostra vita è sempre stata un'arena di sfogo diciamo della destra sovranista sempre stata molto controllate cioè nel senso che trump putin hanno investito tantissimi soldi su su questo social ora il social attuale del presente è instagram perché il social diciamo di sfogo della della sinistra in quanto i democratici hanno investito tantissimi soldi su instagram quindi le tematiche che i giovani affrontano su instagram sono le tematiche che affronteremo nei prossimi anni perché appunto è diciamo il social più in voga in questo momento ovviamente questo non sarà per sempre perché abbiamo già un altro social che da dietro sta spingendo molto che è tik tok che è un social cinese e che non è da sottovalutare in quanto ha una forte potenza soprattutto tra i giovani e gli under 2000 ma andando avanti diciamo con con il tempo avremo sempre di più la polarizzazione la spaccatura tra questi due schieramenti da cui abbiamo come diceva prima il globalismo in cui si vede un mondo comandato da multinazionali tutti assoggettati da da un pensiero unico perché è inutile non è inutile negarlo ma l'obiettivo dell'uomo è sempre stato quello di diciamo conquistare il mondo e questo non si fa più con le armi ma si fa con la cultura come diceva meglio gramsci con l'egemonia culturale quindi avremo sempre di più questo scontro diciamo saremo sempre più radicalizzati nelle nostre convinzioni che saranno sempre più diciamo apparenti perché ormai vestirsi in un determinato modo colore preferito il social che si usa di più la tele che guardiamo di più perché anche in italia comunque abbiamo la mediaset che è principalmente una rete di destra e mentre la rai che è una rete di sinistra quindi siamo sempre più polarizzati in questo mondo è solo scegliere da che parte stare dal globalismo del sovranismo al globalismo abbiamo più potere alle multinazionali come dicevamo prima più diritti civili più diritti sociali forse meno diritti lavoratori questo farà arrabbiare molto gli uomini di sinistra però i sindacati ormai hanno perso l'appoggio della vera sinistra della sinistra attuale che ormai è sempre più rincorre sempre di più diciamo il mondo del capitale del capitalismo e dall'altra parte il sovranismo più potere agli stati sovrani meno diritti civili meno diritti sociali più diritti ai lavoratori alla classe media degli esercenti ecco bisogna capire da che parte stare se non è già troppo tardi grazie d'attenzione ci vediamo la prossima puntata di rockpolitik grazie a tutti